Nel pomeriggio il Consiglio federale dopo giorni di polemica a distanza tra il ministro e il segretario leghista. Che possa essere una resa dei conti o meno, dal Consiglio federale di oggi della Lega ci sono aspettative altissime. Sarà quella di oggi pomeriggio a Roma la prima occasione per capire quanto ancora il carroccio sia da considerare il partito di Matteo Salvini, o quanto invece sia davvero spaccato dopo le ultime critiche piovute da Giancarlo Giorgetti nell'intervista raccolta nel libro di Bruno Vespa. Il ministro e vice segretario leghista aveva accusato Salvini di essersi fermato ai film con Bud Spencer e Terence Hill, anziché seguire il suo consiglio di andare oltre, magari più in alto, puntando agli Oscar con Meryl Streep. I paragoni si sprecano, così come i richiami alla storia più recente, con gli strappi di cui il centro-destra ancora porta i segni. Ad esempio l'ormai mitologico, Che fai mi cacci? di Gianfranco Fine a Silvio Berlusconi, stavolta ribaltato da un retroscena della stampa che racconta di una telefonata tesissima tra i due leghisti, durante la quale Salvini avrebbe detto a Giorgetti, se vuoi mi faccio da parte. Lo scontro è ancora una volta su due visioni e due direzioni che ognuno vorrebbe dare alla Lega, con quella del populismo che sembra prevalere e per la quale Salvini non sembra intenzionato a recedere. Ultimo segnale la videoconferenza di ieri, 3 novembre, tra il leader del carroccio con l'ungherese Viktor Orban e il polacco Morawiecki, guide del gruppo di Visegra dall'antitesi di quel PP in cui Giorgetti vorrebbe far accomodare i leghisti in Europa. Le schermaglie interne alla Lega non si esauriranno certo oggi, quando Salvini ribadirà che qui comando io, come anticipano tutti i quotidiani. E lo aveva anticipato lo stesso segretario leghista che questo autunno si sarebbe aperta a una stagione di confronto interno che dovrebbe portare entro fine anno a un'assemblea programmatica. Non un vero e proprio congresso con l'elezione di un nuovo segretario, ma almeno un punto di ripartenza dopo le batoste elettorali e appunto le polemiche che stanno usurando i rapporti interni nel carroccio. A quel punto mancherà pochissimo alla campagna per il nuovo inquilino del Quirinale, d'altro tema su cui Salvini e Giorgetti sembrano divisi, con il primo che non esclude, almeno a parole, di puntare su Berlusconi, mentre il secondo addirittura ha ventilato un presidenzialismo di fatto con Mario Draghi, capace, di guidare il convoglio anche dal Quirinale. Grazie per la visione!